Eccellenza, qual è il senso della Pasqua in questo particolare periodo di emergenza sanitaria? Una Pasqua di resurrezione ma anche una Pasqua di sofferenza per tante persone che non ce l'hanno fatta? La fede cattolica ci dice che il mistero pasquale è un mistero di morte e di resurrezione. Non per niente la Chiesa celebra il mistero pasquale in tre giorni. Il giovedì santo con la memoria dell'ultima cena e l'istituzione dell'Eucarestia, il venerdì santo con la memoria della crocifissione di Gesù e la morte e quindi poi la Pasqua, il giorno della risurrezione. Così come per Gesù la vita di tutta l'umanità in questo momento è segnata da un mistero di sofferenza e da un mistero di morte. Ma noi abbiamo la fede, soprattutto ci affidiamo all'intercessione del Signore perché realmente ha la sua protezione, perché questa risurrezione per noi e per tutta l'umanità venga al più presto. È una grande speranza, è una grande forza che dobbiamo custodire nel cuore. Come spiegare proprio con la fede cristiana ai fedeli ma anche a chi non crede quello che sta accadendo? Ma questa è la domanda che di solito accade quando ci sono eventi particolarmente calamitosi, un terremoto, una tempesta potente che fa magari tantissimi morti e quant'altro. E la domanda è sempre la stessa, ma dove è Dio in queste situazioni? Era la domanda che si fecero tantissimi durante l'olocausto, quando ben sei milioni di ebrei furono ammazzati. Dove era Dio? La risposta è sempre la stessa. Se Dio si è fatto uomo, si è fatto carne e si è incarnato dentro una storia anche di sofferenza, una storia direi di morte, Dio è ancora una volta presente nelle persone che soffrono. Dio è lì, Dio è dentro questo mistero per sconfiggere il male perché il male non viene da Dio, assolutamente. Il male viene dal maligno, ma noi possiamo camminare nel tempo, nella storia, soprattutto con una umanizzazione della presenza di Dio nel mondo per combattere il male, per combattere le malattie, così come stanno facendo tanti medici, così come stanno facendo tanti operatori sanitari. Perché Dio ci affida ciò che umanamente è possibile per noi perché le malattie possano essere sconfitte e perché ogni calamità naturale, in qualche modo, possa essere arginata. Eccellenza, l'immagine di questa Pasqua è l'immagine di Papa Francesco da solo in una piazza San Pietro deserta. Sì, è un'immagine molto significativa. Il Papa Francesco, nella sua esortazione apostolica Evangelii Gaudium, aveva detto che la Chiesa doveva essere in uscita. E' veramente in questo caso la Chiesa è in uscita. Perché? Perché non abbiamo celebrazioni, non abbiamo messe, non abbiamo momenti significativi che durante la Settimana Santa pur sarebbero stati molto importanti. E a questo punto chi esce? Ah, oserei dire esce Gesù dalla Chiesa. Così come la benedizione col Santissimo Sacramento con Papa Francesco che è uscito da San Pietro e ha benedetto una piazza vuota. Ma in quella piazza vuota c'era tutta l'umanità. Ecco, lo sforzo che dobbiamo fare è uscire, andare, essere pronti a percorrere le strade del mondo. Molto probabilmente troveremo tante piazze vuote, non tanto perché mancano le persone, ma perché molte persone forse non ci ascoltano più. E noi dobbiamo trovare la strada, i modi, le maniere, l'attenzione, l'essere, soprattutto per continuare a incarnare il messaggio del Vangelo. Proprio per quello che stava dicendo lei, eccellenza, oggi in questo particolare periodo probabilmente però tanti stanno ritrovando il senso della vita, momenti per riflettere ce ne sono tanti. In una giornata in cui non possiamo uscire, molti non possono lavorare, è così sotto certi punti di vista, si riacquista forse il valore di una vita che avevamo un po' perso. Ma io nei giorni scorsi molto spesso ho detto che ci era stato dato un tempo opportuno, perché il male non viene da Dio, ma nel male molto probabilmente dobbiamo scorgere le vie di Dio. Ecco, una via di Dio che in questo tempo, a partire dall'11 di marzo e probabilmente fino al 3 di maggio, così come sono le notizie della chiusura di tutte le attività, noi abbiamo il tempo di un monachesimo domestico per dedicarci all'ascolto della parola, alla riflessione personale, a riscoprire la nostra interiorità, a riscoprire le nostre relazioni familiari, a riscoprire tutto quello che durante il nostro frenetico camminare di tutti i giorni non sappiamo fare o a cui non diamo spazio. Ecco, l'importante è sicuramente avere questo coraggio di saper usare bene questo tempo e soprattutto la grande domanda, chi sono? Da dove vendo? Dove vado? Che cosa voglio essere nel futuro della mia vita, della mia storia? La precarietà di questi giorni mi sta insegnando qualche cosa? A quali cose ho dato valore? Do valore al denaro? Do valore al potere? Do valore al lusso? Do valore alla prepotenza? O do valore alle cose belle del cuore, dell'anima, della mente, dello spirito, dell'arte, della interiorità? E qui si gioca la grande partita di che cosa sarà l'uomo nel domani. Un uomo che potrebbe uscire fortificato, eccellenza, passato questo periodo? Me lo auguro, me lo auguro di vivo cuore, sperando che i maestri che sono capaci di dare indicazioni alla gente siano all'altezza del compito. Ma vorrei lanciare un appello. In questi giorni stiamo assistendo a tanta gente che fa tanta fatica ad andare avanti e ancora una volta il balletto della politica che continua a svendolare idee, che continua a svendolare pensieri, che continua a svendolare contrapposizioni. Ecco, non so se questa è la strada che il futuro ci deve riservare. Se non abbiamo imparato questa lezione, se non abbiamo imparato questo monito che non è tanto importante la mia parte, ma è importante il tutto, perché questo è ciò che realmente ci deve stare a cuore, io credo che possiamo anche chiudere battenti. Allora, i maestri, i responsabili, coloro che hanno, direi, mandato di dare indirizzi di cammino alla gente, al popolo di Dio per quel che riguarda la vita della Chiesa, devono essere all'altezza di questo momento e ripensare attentamente quello che hanno fatto fino a ora e quello che devono fare un domani, perché domani non sarà come ieri, domani sarà un'altra storia. Un'altra storia eccellenza introduce anche il problema del lavoro, perché in tanti hanno perso il lavoro, stanno perdendo il lavoro, rischiano un domani molto prossimo di non avere più un'occupazione. E questo è il vero dramma che potrebbe riservarci questa emergenza sanitaria. La ripresa non sarà facile, sarà molto dura, perché la crisi economica che sta attanaliando l'Italia, l'Europa e anche il mondo indero è veramente una crisi molto forte. Quella del 2008 sinceramente è quasi nulla in confronto a quello che stiamo affrontando. Ma io sono fiducioso, il popolo italiano è un popolo dalle mille risorse, è capace di risorgere dalle disavventure più assurde, siamo stati capaci di risorgere dopo il secondo conflitto mondiale. È vero, avevamo uomini e donne di altissimo spessore politico, religioso, anche filosofico, che hanno saputo prendere in mano l'Italia e l'hanno rilanciata dentro la storia dell'Europa e dentro la storia del mondo. Io credo che dobbiamo avere questa attenzione, ma sono sicuro che il popolo italiano ce la farà. Ce la farà come ce la farà il popolo abruzzese, come ce la farà il popolo pescarese, pennese, perché faccio riferimento alla mia diocesi. Ma dobbiamo dare speranza, dobbiamo dare certezze, dobbiamo dare capacità di saper stare insieme, perché più questa unità si cementerà, più non baderemo ai nostri singoli interessi egoistici e più penseremo al bene comune, più riusciremo a risollevarci da questo momento difficile. Eccellenza, il suo ricordare proprio la presenza della diocesi di Pescara Penne in questo momento particolare non può non farci aprire un capitolo su quello che sta facendo in questo momento storico e su quello che ha fatto sempre la Caritas Diocesana. Tantissime iniziative messe in campo, soprattutto in questo momento, per i più poveri, per i più bisognosi e ci sono purtroppo sempre più nuovi poveri, anche nella diocesi di Pescara Penne. Grazie a Dio la storia della presenza della Caritas nella diocesi di Pescara Penne è una storia molto lunga. Io l'ho trovata già molto attiva quando nel 2005 sono arrivato qui a Pescara come vescovo e non ho fatto altro che potenziare e sostenere e aiutare questo cammino della Caritas Diocesana che oggi è in prima linea con tutte le sue strutture, con tutto quello che in qualche modo credo che anche la vostra televisione abbia testimoniato nei giorni scorsi e di questo vi ringrazio veramente di cuore. Ma così come ci ha detto già il direttore della Caritas, Don Marco Paniello, il problema non è adesso, adesso riusciamo a far fronte all'emergenza. Il problema sarà appunto la ripresa, quando dovremo darci da fare per inventarci strumenti e situazioni di aiuto che in qualche modo possano sostenere anche una ripresa del lavoro. Eccellenza, avviandoci al termine di questo incontro, io le chiedo due parole davvero per quelle tante persone che purtroppo non ci sono più. Lei prima parlava del fatto che purtroppo in questa emergenza sanitaria non si possono celebrare le funzioni religiose, non si può assistere alla messa, non si possono ovviamente portare avanti i sacramenti come tutti vorremmo e soprattutto dolore nel dolore non si possono salutare le persone care che non ci sono più. Molti in questi giorni mi hanno chiesto perché non facciamo la processione del Cristo morto. Anche un solo simbolo, come è accaduto in altre situazioni. Io ho fatto questa riflessione che mi porto dentro già da qualche giorno. Gesù e Maria nella processione sono il segno di quel cammino verso il sepolcro. Ma Maria è riuscita ad accompagnare il corpo di Gesù. Tanti figli, tante mamme, tanti padri, tanti fratelli, tante sorelle in questi giorni non sono riusciti e non potevano accompagnare il corpo dei loro cari al cimitero, alla tomba. Gesù è con noi anche in questo momento. Maria è con noi anche in questo momento. Privati di questo segno, perché tanti sono stati privati di un commiato e di un saluto per elaborare il lutto. E allora anche Gesù e Maria hanno vissuto con noi questo momento difficile. Qual è l'augurio che il Vescovo della Diocesi di Pescara-Penne fa a tutta la cittadinanza di Pescara, a tutti gli aderenti alla Diocesi, ai cittadini di Penne, a tutti gli abruzzesi? Ma alla zona di Penne è un augurio particolare perché è zona rossa. Sicuramente spero che la risurrezione sia, che al più presto siano liberati da questo segno così difficile che impedisce loro tantissimi movimenti che magari altri possono fare. E l'augurio migliore è buona e santa Pasqua a tutti. Nella gioia e nella speranza. Non abbiate paura, non abbiate timore. È la parola di Gesù ai discepoli. È la parola di Gesù alle donne che l'hanno visto per prime nel giorno della risurrezione. Non abbiate paura, non abbiate l'angoscia, non abbiate il timore, perché la paura, l'angoscia e il timore vengono dal maligno. Mentre invece noi dobbiamo essere pronti a sperare di nuovo, a credere di nuovo, a risorgere di nuovo con il Signore. Auguri. Grazie.